Belen Rodriguez ha finalmente fatto pace con il suo passato. Dopo la separazione da Stefano De Martino, sembra che abbia ritrovato un buon rapporto anche con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Mar. Le foto pubblicate dal magazine Oggi li ritraggono insieme al parco, in un clima familiare e sereno, con sorrisi e baci scambiati tra di loro. È sorprendente vedere come Belen sia passata dall'essere pronta a denunciare Antonino, come aveva minacciato su social nel dicembre 2023, a trascorrere momenti spensierati con lui. Le beghe legali e le accuse reciproche sembrano essere ormai un lontano ricordo, superato grazie anche al percorso di crescita personale che la showgirl ha affrontato dopo un periodo di profonda depressione. Oggi Belen è serena e ha seppellito l'ascia di guerra con i padri dei suoi figli. Anche se qualche attrito con Spinalbese è ancora presente, entrambi sembrano gestire la situazione in modo maturo e responsabile. La showgirl inoltre sembra essere tornata single dopo la fine della relazione con l'ingegnere siciliano Edoardo Angelo Galvano. Nonostante ci siano ancora piccoli contrasti tra Belen e Antonino, entrambi sembrano essere consapevoli che è importante guardare avanti e lasciarsi il passato alle spalle. La normalità di una dinamica tra genitori separati si riflette anche nelle loro interazioni, dimostrando che la maturità e la serenità possono prevalere anche nelle inoltre sembra. Grazie a tutti.